Creato da Joaquin Simon nel 2011 a New York, il Naked and Famous è un incrocio fra un paper plane e un Last Word, preparato con quattro ingredienti in parti uguali. Entrato a far parte della lista IBA nel 2020 nella categoria New Era Drinks, si realizza con tecnica Shaker Strain con 22,5 millilitri di mescal e altrettanti di chartreuse gialla, di aperol e di succo di lime fresco. Si serve in una coppetta ghiacciata.